Uso Tony, ma vale per tutti, perché Tony appena c'è una possibilità, non so, prima doveva fare i piccamenti se l'è tolti, adesso c'è un attimo di relax e se l'è tolti, vanno tenuti pure quando dormi, ok? Molto importante, cioè noi dobbiamo arrivare, lo so che è una piccolezza, ma far diventare una persona un combattente non è solo insegnargli il jab diretto, tu sei già bravo e faremo molto presto insegnarti il jab diretto, e farlo cambiare come persona, pensiamo a questo esempio, ci sono due persone, voi non sapete chi è un bravo combattente, cioè è uno che si allena da un mese e un altro che si allena da anni e ha un combattente da paura, uno che si è allenato una vita dedicato, no? Bene, uno appena c'è la possibilità, ma voi non sapete se è quello bravo o quello principiante, appena c'è la possibilità che c'è due minuti di pausa, si leva i guantoni, ah, posso un attimo che chiamo, ah, bisogna rimettersi lì, l'altro non si rileva mai, quando finisce la lezione, se li tiene, vorrebbe stancora, non si vorrebbe levar questi guantoni, quanto gli piace, vi posso tenere un altro po', dai, mi ci faccio anche la doccia? Secondo voi, dei due, ok? Quindi attenzione, se una vostra protezione, un pantaloncino, un sudore, fate come vi pare, vi dà un po' di fastidio, quel fastidio in maniera impercettibile vi darà fastidio quando combattete, voi mi direte, sì, ma l'importante gli do un cazzottone, al 100%, ma vuoi sapere una cosa che conterà l'1%? Questo, e un altro 1%, un'altra cosa, e un altro 1%, un altro 1%, un altro 1%, alla fine, ok? Allora, quando, certo, se voi volete dire, ma io voglio dedicare a questo percorso solo sei mesi, pensiamo ai cose importanti, e basta, cioè, in sei mesi l'1% conta poco, ma prendete un campione, il campione è bravo a fare tutto quello che era già bravo, ha imparato altre cose importanti, e è perfetto in tutto, allora dobbiamo imparare come dormiamo, come mangiamo, come pensiamo e come parliamo, l'ultimo che ho mandato via, però mi ho mandato una mail e l'ho riaccettato, è perché va parlato male, sulla salita qua, sulla salitella, un combattente, come diceva Hagler, un pugile pazzesco, infatti il soprannuo era The Marvelous, il meraviglioso, è sempre, non è che è combattente, ora che salgo e poi vado in discoteca e mi è ubriaco, o è un combattente qui massima disciplina, quando sbagli ti è stato al muro o piegamenti e poi fuori mangio e bevo e mi è ubriaco, va bene per un film, sui film succede questo, nella realtà non è così, no ma quel combattente invece lui fa la vita, no ragazzi, dobbiamo imparare mille cose, una di quelle mille, e sono mille, è, noti che ti lavi i guantoni e quando il maestro non l'ha detto vuol dire che ti davano fastidio, bene, come starete a vostro agio quando starete combattendo e avrete una cosa che vi dà fastidio, però la dovete tenere perché se deve, come starà invece uno che voglio i guantoni, voglio i guantoni, ma no guarda non devi combattere una settimana, no mi piace troppo, quando deve combattere hai i guantoni e vai ce l'ho, cioè lui starà molto più a suo agio, mi capite? Cos'è l'uno per cento? Mettiamolo là, pronti? Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuga Club, ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina, sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità, clicca il link che trovi in descrizione.